allora a febbraio posso dichiarare finite le seguenti cose c'è un'altra confezione di questo sapone la marca eisana che è la marca interna del rosman non ecobio ma comunque con molti prodotti veramente molto buoni con un inci molto molto possibile questo sapone al momento il nostro sapone liquido preferito perché non screpola le mani fa schiuma a sufficienza anche se è una schiumetta è molto come dire molto assai poco compatta e ma ha una profumazione molto molto buona perché è una profumazione di arancia dolce candita ma senza essere troppo dolce è veramente una profumazione piacevole qui vedete quale l'inci vedete anche che c'è un ingrediente che non ci piace questo ingrediente c'è anche nei saponi di balea quindi non c'è scampo e la cosa molto positiva di questo sapone che dura tantissimo tempo perché l'erogatore contrariamente all'erogatore dei saponi liquidi di balea è un erogatore fatto per erogare pochissimo prodotto pochissimo ma è sufficiente a lavarsi una volta le mani quindi ideale fatto veramente con il cervello funzionante e non per far sprecare prodotto alla gente qui dentro ci sono 500 ml il prezzo è 65 centesimi ma siccome in questo periodo è aumentato tutto adesso questo sapone costa 79 centesimi che comunque un prezzo lo stesso molto molto abbordabile e comunque il rossman sta facendo in questo periodo molti sconti per far accettare alla gente nuovi prezzi e praticamente c'è uno sconto sul nuovo prezzo e grazie allo sconto il prezzo il prezzo del prodotto è ancora per un paio di settimane come il prezzo vecchio non so se riesco a spiegarmi poi ho finito questa acqua micellare finalmente di alterra questa è un acqua micellare che costa un bel po perché costa quasi due euro e ha una profumazione cattiva di alcol misto a qualcosa di indefinibile sebbene fresco ed è un acqua micellare che funziona molto peggio anche se comunque funziona ma funziona molto peggio rispetto all'acqua micellare che alterra faceva prima anche alterra è una mas è una marca del rossman vedete infatti qui il simbolino del rossman qui vedete anche gli ingredienti io su questa acqua micellare non ho assolutamente niente da dire se non che per fortuna ho ancora in scorta un acqua micellare vecchia ai frutti di bosco ancora in tonza da cominciare e per il momento però comunque ho cominciato ad utilizzare un'altra acqua micellare di un'altra marca ma questa veramente un'acqua micellare cioè inutile nel senso fa il suo lavoro ma costa troppo ed è peggiore rispetto all'acqua micellare che l'ha preceduta e poi abbiamo finito questo gel doccia questa era un'edizione limitata di un bel po di tempo fa io ce l'avevo in scorta adesso finalmente l'abbiamo usata profumazione decisamente dolce di caramelle gommose e cui vedete l'inci niente di particolare piacevoli farsi la doccia con questo doccia gel qui la marca è al verde questo doccia gel era costato 1 euro e 79 e dentro ci sono 250 ml di prodotto devo dire che come sempre i prodotti per farsi la doccia di al verde cioè screpolano un pochino la pelle e poi infine abbiamo finito questo igiene spray come si dice in tedesco sia un prodotto per disinfettare le superfici ecco è un periodo in cui i prodotti per disinfettare le superfici li finiamo uno dietro l'altro veramente a velocità della luce perché ci disinfettiamo qualunque cosa tranne le mani e nel quotidiano serve quindi per fortuna questo adesso nella fattispecie era il vibasept è il disinfettante che viene venduto da aldi altrimenti detto anche oldi ma ci sono equivalenti disinfettanti proprio identici anche con il fracone identico che vengono venduti anche al rosman e anche al dam quello che io posso dire sì al disinfettante del dam sì a questo disinfettante decisamente no al disinfettante del rosman perché ha una puzza che non mi piace e il flacone non è fatto bene ecco nel mese di febbraio c'è una quantità di creme per il viso e sono tutte le creme che vedete qui ma ce ne sono anche altre ce n'è perlomeno un'altra e la vedi qui ecco questa allora vorrei parlarti di tutte queste creme vorrei parlarti prima di tutto di queste due queste sono tutte e due creme in realtà per gli occhi vedi sopra queste creme dei peletti perché mi sono appena messa un maglione nero che è molto peloso e che quindi ha depositato peletti dappertutto questo l'inverno questi sono i maglioni queste sono originariamente dunque dicevo due creme per gli occhi due creme per il contorno occhi questa è quella classica normale e quelle questa invece è quella che costa milioni di miliardi con questa spalmata su tutta la faccia mi sono trovata decentemente bene diciamo che per il viso è una buona crema per il contorno occhi come quasi tutte le creme per il contorno occhi dopo qualche giorno mi dà una lacrimazione anomala ancor di più questa questa proprio dopo un giorno diventa per me impossibile da usare perché gli occhi lacrimano troppo comunque ho finito tutte e due le creme sul viso questa piuttosto piacevole sul viso questa poco zero idratante e comunque sono contenta di aver finito di poter gettare queste due creme che sono ancora residui del calendario dell'avvento di dr auska poi in ordine di apparizione ho usato questa 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 e poi infine quest'altra crema dunque questa di cattier piacevole una sleeping cream ma io l'ho usata anche tranquillamente per il giorno piacevole però non idratante a sufficienza direi addirittura saponosa cattier è una di quelle marche francesi come ce ne sono tante in francia e come purtroppo ce ne sono tante anche in italia creme e prodotti che potrebbero costare molto meno e che sono equivalenti dei prodotti di alverde di alterra però i prodotti del verde alterra cioè una crema per il viso di alverde o di alterra costa massimo massimo 4 euro e qualcosa invece certi prodotti di marche italiane o di marche francesi sono la stessa identica cosa e costano 16 euro 18 euro quindi direi un po uno spreco di soldi oltre al fatto che c'è sì un'idratazione ma non più di tanto e dovrebbe essere una crema ridensificante da notte quindi non comprerei questa crema non ho neanche controllato quanto costa invece ho controllato quanto costa questa e costa 37 euro in germania in un negozio in cui i prodotti di amari berlin solitamente sono abbastanza economici quindi fatti un po un'idea però una crema strepitosa una crema che fa tutto per te e tu non devi fare niente per lei non le devi fare da babysitter cioè questa è una crema che io mi comprerei subitissimo ma infatti alla premiata ditta amari berlin sanno come si fanno i cosmetici fatti di ingredienti interamente naturali cioè veramente questa è una crema fantastica è una crema confortevole da usare confortevole quando uno ce l'ha addosso sul viso delicatamente profumata veramente cioè idratante al punto giusto veramente una crema fantastica però in 37 euro poi invece c'è questa questa costa sui tre sui sette euro dentro ci sono i brillantini e questa è la cosa brutta di questa crema qui vedi quale linci e puoi vedere anche tranquillamente i brillantini a parte i brillantini questa è una crema che si potrebbe comprare si potrebbe usare perché ha un prezzo sebbene un pochino alto però notevolmente contenuto rispetto ad altre creme in più piacevole in più è idratante poi c'è la copia la brutta copia di questa crema che è questa crema vedi forse che il campioncino non è neanche finito perché impossibile da usare questa è una crema colorata arancione cioè arancione poi la spandi e diventa rosa aspetta vedi riesce a vedere rosa ecco questa crema fa tante bricioline sulla faccia che poi si incagliano nella pelle e durante la giornata ti ritrovi bricioline e piccoli brillantini dappertutto sulla faccia cioè una crema che ti fa fare delle figure schifose da un'idratazione a un malapena percettibile assolutamente insufficiente come tutti i prodotti che io ho usato finora di logona questa questo è un cattivo prodotto io non so che cosa stia a fare logona ancora sulla faccia di questa terra allora qui vedi l'inci puoi paragonarlo forse con l'inci aspetta di quest'altra crema di garnier queste due creme sono la stessa cosa cioè sono creme rosa per dare un incarnato leggermente rosato anche se poi è un qualcosa non si vede non è un con non è una bb cream non è un fondotinta questa crema e neanche quella di garnier però c'è comunque un colore questo colore leggermente modifica l'incarnato ma leggermente sono lo stesso tipo di crema vanno di moda da queste parti le creme rosate ma veramente prodotti di cattiva qualità questo è un prodotto di cattivissima qualità questo era il librettino la cartellina in cui era contenuta questa crema era fatto in questa maniera qui vedete un po tutti i prodotti di logona mi piace che logona scriva qui sopra tutte le formule sono senza alcol e con un nuovo fresco odore di olivello spinoso logona prima era famosa per fare le creme con dentro l'alcol veramente il primo prodotto che ho provato nella mia vita di logona è stato appunto un una crema un tonico alla rosa pieno d'alcol in una maniera inverosimile nel mese di febbraio sono finiti questi fantastici prodotti da resciacquo allora prima di tutto c'è il non non il ma lo shampoo fructis garnier pure volume lo shampoo per volumizzare i capelli alla vitamina b3 e b6 allora prima di tutto questo shampoo ha da un paio d'anni a questa parte un inci interamente possibile prima non era così ma adesso già da un paio d'anni è così per questo da un paio d'anni a questa parte alterniamo volentieri questo shampoo verde al simile shampoo blu con la bottiglia blu e tutte e due ci piacciono molto solo lo shampoo con la bottiglia blu come ho detto milioni di volte è più adatto ai capelli fini mentre questo è più adatto ai capelli del mio tipo questo shampoo rispetto allo shampoo blu non profuma i capelli a lungo perché la profumazione sebbene piacevole rimane un giornino un giorno e poi basta mentre invece lo shampoo blu ha una profumazione che rimane a lungo sui capelli pur non essendo una profumazione invadente e spiacevole e poi che altro volevo dire che abbiamo finito anche questo gel doccia today è la marca interna dell'hard discount penny e penny è l'hard discount del supermercato per benestanti chiamato reve è presente in germania r e w e quindi i supermercati penny che ci sono anche da voi in italia e si chiamano penny mark in italia sono una dependance sono un pezzo di supermercati per benestanti non sono un hard discount i supermercati penny non sono un hard discount indipendente come per esempio aldi o come per esempio i lidl allora la marca today è una marca che a me piace molto è una marca interna naturalmente non è una marca che esiste per davvero è una marca interna di reve e di penny ma mi piace molto perché i gel doccia sono quasi tutti con un inch più che praticabile e sono prodotti molto molto buoni sto parlando esclusivamente dei gel doccia allora questo era un gel doccia da uomo aveva una profumazione boscoso fresca ma l'ho usato anche io tranquillamente mi è piaciuto veramente molto perché è veramente una profumazione rinvigorente rinfrescante si sciacquano molto molto facilmente non screpolano la pelle non lasciano residui difficili da togliere veramente buoni prodotti per farsi la doccia e così come è stato molto buono anche questo sapone liquido per le mani creamy orange di isana isana è la marca interna non ecobio del rosman come potete leggere anche qui e questa era una delle nuovissime profumazioni ci è piaciuto molto l'avremmo volentieri ricomprato ma i prezzi sono aumentati prima pagavamo questo sapone liquido intanto vedete l'inch qui prima pagavamo questo sapone liquido 65 centesimi adesso costa 75 centesimi e siccome ci sono supermercati come aldi o come netto che vendono ancora sapone liquidi con un inci praticabile a 65 centesimi cioè il prezzo vecchio quindi da ora in poi proseguiamo ad acquistare i nostri cioè procediamo con l'acquistare i nostri sapone liquidi nei supermercati in cui c'è ancora il prezzo vecchio perché non abbiamo nessuna voglia di adattarci al nuovo prezzo cioè noi compriamo questi saponi liquidi perché costano poco però nel momento in cui il prezzo aumenta non c'è più il motivo per comprarli non c'è più cade il motivo originario per cui avevamo deciso di comprarli quindi ci spostiamo verso prodotti con inci lo stesso buono ma con un prezzo che è un prezzo che noi possiamo pagare ma soprattutto che abbiamo voglia di pagare io non ho voglia di pagare un sapone che non è cambiato in niente ma solo il prezzo è cambiato ed è aumentato e quindi è andato a mio sfavore cioè non ho nessuna voglia di adattarmi a questa cosa per quanto riguarda questo sapone profumazione molto piacevole di arancia dolcificata e candita veramente una profumazione molto molto buona il rosman direi è specializzato in profumazioni davvero molto piacevoli solo in questo sapone è troppo cremoso e non così tanto schiumoso quindi per esempio quando si hanno le mani piene di vari giri di disinfezione nel corso della giornata è difficile far aderire far aggrappare il sapone allo sporco delle mani è difficile proprio intaccare lo sporco grasso delle mani determinato dai vari disinfettanti contenenti tutti grandi quantità di glicerina perché purtroppo il sapone non è sufficientemente schiumoso e non produce sufficiente schiuma e quindi adesso stiamo usando un sapone del netto dell'hard discount che si chiama netto una profumazione rivoltante di miele proprio chimico miele chimico cioè il tipico miele così come da profumazione chimica messa nei cosmetici però schiuma a sufficienza e perlomeno toglie via lo sporco ecco poi è finito questo campioncino di profumino alla rosa che io a suo tempo avevo acquistato e pagato la marca è acorelle specializzata in prodotti per il rallentamento della ricrescita dopo la depilazione è una marca francese ma fa anche dei profumi i profumi che ho provato finora di acorelle sono perfettamente evitabili cioè non c'è niente di interessante in questi profumi alcuni sono molto piacevoli però non durano sulla pelle ma neanche addosso e insomma sono evitabili questo era il profumino alla rosa e la profumazione era una profumazione completamente identica alla profumazione delle creme della crema per il corpo alla rosa di la vera ecco questo posso dire con assoluta certezza cioè una profumazione alla rosa cremosa una profumazione di rosa sì ma come se rosa alla crema di latte come posso dire ecco questo profumino è finito ce l'avevo veramente da tanto tempo e niente lo salutiamo infine concludiamo questo video dei finiti del mese di febbraio con i seguenti finiti allora comincio dall'ennesimo flacone di acqua spray la marca è ancora una volta la cura la cura è la marca interna di prodotti che a volte sono fatti con ingredienti interamente naturali hanno inci molto buoni comunque la marca interna una delle marche interne di aldi sud o come dico sempre oldi allora questa è l'unica acqua spray in commercio in germania che ultimamente non è stata ritirata dal commercio a causa di contaminazione batterica le acque del rosman e del dem sono state tutte ritirate dal commercio ma poi soprattutto costano di più perché infatti per darti una contaminazione batterica che se hai le difese immunitarie basse può addirittura ucciderti il rosman e del dem vogliono un euro e 49 mentre invece nella cura aldi sud vuole soltanto 99 centesimi e non ti uccide neanche quindi tutto bene l'erogatore va orientato verso un pochino così perché altrimenti spruzza verso l'altro l'alto ma poi l'acqua esce in una maniera piacevole e tutto va bene poi ho usato queste due bustine di crema di logona questa è una crema che devo dire è abbastanza utilizzabile fra i prodotti di logona forse il primo prodotto questa crema idratante significa crema idratante c'è anche scritto crema idratante giorno e non si capisce bene perché in spagnolo lo spagnolo merita la preposizione de dia e invece l'italiano non merita preposizione le traduzioni che hanno luogo in germania c'è un problema noto comunque questa è una crema piuttosto fresca leggermente profumata una profumazione fresca piacevole non è una crema intensamente idratante è una crema base di acqua e olio di soia e poi c'è l'alcol al terzo posto questa è una formulazione che secondo me nel frattempo non dovrebbe esistere più perché logona recentemente ha riformulato tutte le sue creme ma io questi campioncini non l'ho presi più di forse tre mesi fa tre o quattro mesi fa quindi dovrei controllare questa è una crema che comunque costa o poco sotto i 10 euro o un po sopra i 10 euro quindi comunque sarebbe una crema che io non comprerei tra l'altro logona è una ditta che non mi piace perché tutti i prodotti che ho provato di logona finora non mi sono piaciuti semplicemente ad ogni modo questa crema forse il primo prodotto di logona che ho trovato decente cioè perlomeno utilizzabile fino in fondo tant'è vero che ne ho usati due campioncini qui vedete il pieghevolino con tutte le informazioni che poi continuano qui qui vedete tutti i prodotti di questa linea attenzione perché logona fino a poco tempo fa veramente metteva l'alcol dentro tutti i suoi prodotti ripeto adesso i prodotti sono stati riformulati ma vengono riformulati a quanto sembra in continuazione e poi ho finito queste due creme per le mani che ho trovato tutte e due eccellenti questa di sana piace a tantissima gente questa è una crema interamente glicerinata va bene sia per le mani sia per tutto il corpo per tutto il corpo però con l'accortezza poi di lavare a lungo cioè bagnare solo con acqua prima di insaponare a lungo il corpo sciacquando via con la mano i residui di glicerina perché altrimenti il sapone fa difficoltà ad attaccare e ne dovete usare di più mentre invece se sgrossate un po la quantità di glicerina appiccicata sulla pelle prima di insaponare meglio perché risparmiate sapone e vi lavate anche meglio quindi detto questo facendo attenzione a questo piccolo problema questa crema veramente una crema eccellente piacevolmente profumata di loro dicono di lavanda ma in realtà c'è una profumazione cosmetica piacevole ma che secondo me non è lavanda se fosse lavanda io avrei un problema con la lavanda mentre invece qui non ho avuto assolutamente nessun problema vedete qui quali sono tutti gli ingredienti questa è una crema che costa forse adesso perché da qualche settimana sono aumentati i prezzi però questa è una crema che io ho pagato 99 centesimi e che spesso è anche in sconto è una crema per le mani ci sono dentro 100 ml di prodotto che è una quantità molto buona per le creme da mani che normalmente contengono o 50 da un po di tempo a questa parte 75 ml di prodotto è veramente un prodotto buono le mani sono e così come il corpo sono immediatamente rimpolpate e la sensazione sulla pelle molto molto piacevole molto molto come dire di pelle che è di nuovo a posto e questo da molto sollievo stessa cosa dicasi anche per questa crema questa aveva una consistenza granulosa faceva parte di un cofanetto che conteneva una crema vera e propria idratante questo sorbetto per le mani data la consistenza granulosa come quasi succo di frutta in nettare come quasi granita un po sciolta come posso dire e con una profumazione generica non esattamente piacevolissima ma neanche spiacevole diciamo abbastanza neutra questo però non c'è l'inci perché l'inci è sul cofanetto comunque ho parlato più volte di questa crema ottimo prodotto peccato sia finito una crema tra l'altro molto leggera che si assorbiva molto molto velocemente anche questa crema pur essendo molto ricca si assorbiva molto molto velocemente per lasciare poi nel corso dei minuti le mani trasformate cioè proprio rimesse a posto veramente due buonissime creme che durante questo inverno mi sono state tutte e due molto molto utile infatti questa l'ho ricomprata questa non l'ho potuta ricomprare perché il cofanetto non esiste più e poi ho finito abbiamo finito l'ennesima confezione di questo flacone di shampoo garnier fructis aloe hydrabomb ma ci vedete in continuazione usare questo shampoo qui vedete l'inci che è perfettamente praticabile ci sono due shampoo di garnier fructis che sono praticabili e sono questo e poi lo shampoo che si chiama volume con il flacone verde ecco e poi abbiamo finito anche questo dentifricio questo sarà il quarto quinto tubo che finiamo di questo dentifricio è un dentifricio che troviamo al penny non ha un inci particolarmente perfetto ma è un dentifricio che costa poco lava piuttosto bene i denti contiene tutti gli ingredienti che deve contenere e fa pochi fili all'interno della bocca pochi fili plasticosi e osceni all'interno della bocca un po' li fa però poco se uno usa una piccola quantità di dentifricio riesce lo stesso a lavare bene i denti e un pochino tiene sotto controllo il problema filamentoso e questo è tutto per il video di questo mese non so perché la fotocamera continua a uscire fuori fuoco ma comunque ci vediamo nel prossimo video ciao ciao